anche le marche fanno i conti con la variante omicron primi casi regione turismo natalizio in affanno prenotazioni ferme e disdette frequenti nel lungomare di pesaro avanza il progetto di un pargheggio interrato da gennaio il caffè al bar costerà il 25 per cento in più nella provincia di pesaro urbino buonasera eccoci pronti per il nostro telegiornale di oggi martedì 21 dicembre che apriamo con il consueto punto sulla pandemia nella regione marche regione che purtroppo comincia a fare i conti con la variante omicron sono stati infatti rilevati i primi casi della cosiddetta variante sudafricana in due campioni relativi a due uomini provenienti dalle province di ancona e ascoli a sequenziarli il laboratorio di virologia di ancona che ora è alle prese con il tracciamento dei contatti dei due casi individuati oggi sono stati processati più di 10.000 tamponi che hanno rilevato la cifra importante di 689 casi di contagio da covid-19 in regione di cui 94 in provincia di pesaro urbino va segnalato il fatto che il 58 per cento dei casi di oggi sono stati rilevati in soggetti già vaccinati con due dosi il che denota l'urgenza delle terze dosi di fronte all'emergere delle nuove varianti ultimi dati che fanno anche salire l'incidenza a 296 casi settimanali ogni 100.000 abitanti oggi si registrano tre ricoveri in più con la cifra dei pazienti in degenza nelle marche che raggiunge quota 216 casi di cui 39 in terapia intensiva i morti contagiati da covid-19 hanno invece raggiunto oggi la cifra di 3.200 decessi da inizio pandemia gli ultimi tre rilevati sono un uomo di 80 anni di macerata uno di 85 di fermo e una donna di 88 di falerone natale tempo di vacanza ma non necessariamente di turismo e quanto stanno constatando gli albergatori di pesaro in questo periodo di natale e capodanno con prenotazioni a rilento qualche disdetta e diversi hotel che hanno preferito restare chiusi natale capodanno tempo di ferie che non sempre fa rima con tempo del turismo e quanto stanno vivendo gli alberghi pesaresi in queste festività prenotazioni che non sono decollate disdette più frequenti e una quarta ondata della pandemia che si sta portando via un po di voglia di vacanze tematiche emerse all'hotel alexander museum palace di pesaro in occasione della presentazione del consiglio direttivo dell'apa hotels associazione degli albergatori da quest'autunno presieduta da paolo costantini dopo otto anni di presidenza di fabrizio oliva disdette in questo momento si parla nell'ordine del 15 20 per cento così come da siamo allineati a dati nazionali che sono usciti oggi soprattutto per il periodo dell'ultimo dell'anno alcuni alberghi hanno deciso comunque di tenere chiuso per il periodo delle feste quindi la situazione è quella un po di attesa e di guardarsi attorno cosa sta succedendo le prenotazioni sono sostanzialmente ferme e quindi il tema è non avere disdette alberghi chiusi alberghi lontani dall'essere pieni ma alberghi che guardano al 2022 con fiducia le prospettive sono tendenzialmente buone siamo siamo in un momento difficile ovviamente il natale le festività sono un momento come si sta vedendo come si vedono i dati ultimamente molto difficile però per un 2022 c'è una prospettiva di ripresa almeno nella volontà delle persone di tornare a viaggiare di tornare in vacanza e di essere un po più leggeri rispetto al momento certo che tutto dipenderà da come andranno queste feste i prossimi mesi e da quello che succederà poi a livello della pandemia la volontà nelle persone e soprattutto nelle strutture ricettive che ad oggi sono pienamente pronte ad accogliere i turisti comunque in sicurezza ci dicono che ci sarà una ripresa poi sarà tutta da vedere per quello che succederà nei prossimi mesi prospettive ma anche criticità da affrontare l'assemblea di apa affrontato alla presenza dell'assessore al turismo di pesero daniele vimini tematiche come l'erosione del litorale e il ripascimento delle scogliere ma soprattutto il tema delle garanzie sugli indirizzi di spesa della tassa di soggiorno dunque la tassa di soggiorno per noi è un tema molto presente a pesaro solo a pesaro andiamo dagli 800 al milione di euro in previsione per il prossimo anno proprio questa sera abbiamo voluto chiedere all'assessore vimini dove vengono spese queste risorse perché sono risorse che a nostro avviso devono essere spese sul turismo e sulla ricettività tra i temi sviluppati all'assemblea degli albergatori a pesaro che abbiamo trattato nel servizio appena andato in onda è emerso anche quello delle carenze di parcheggi nella zona mare un tema sul quale prende sempre più piede l'idea di realizzare un parcheggio interrato da 70 posti in piazzale d'annunzio come ci spiega l'assessore al turismo daniele vimini abbiamo rimesso a fuoco alcuni impegni e ragionamenti il principale riguarda la possibilità su cui siamo andati avanti nel realizzare un parcheggio a piazzale d'annunzio con un parcheggio diciamo che sostituisca l'attuale piazzale un parcheggio interrato che possa permettere quindi una riqualificazione del piazzale con una piazza intera a livello suolo e anche 70 posti auto in box da vendere sia per gli alberghi che per i residenti per contribuire alla qualità della sosta di quella zona abbiamo lanciato un po' la palla agli albergatori chiaramente ci vuole la disponibilità ad acquistare questi box ma è una possibilità che potrebbe prendere corpo nei prossimi mesi diversamente procederemo come dei impegni già assunti a realizzare invece una piazza e ovviamente bisognerà ragionare su politiche di sosta altrove tra cui l'ampliamento con la disponibilità della scuola anche nel parcheggio di Santa Marta che è stato molto apprezzato in questa estate 2021 tasse comunali a Pesaro invariate per tutto il 2022 è quanto è emerso dal Consiglio Comunale che ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 si tratta di un bilancio che manterrà inalterata la pressione tributaria e le agevolazioni tariffarie già messe in campo nell'ultimo anno resta invariata anche la modalità di calcolo della Tari è stato approvato anche il documento unico di programmazione in cui spiccano i 30 milioni di euro destinati alle misure sociali e al welfare settori sui quali ricadrà un terzo degli interventi comunali Il Museo Nazionale Rossini sta rispotendo molto apprezzamento non solo per l'offerta culturale ma ora anche per la qualità impiantistica che gli è valso il premio nazionale a Cadoro grazie agli interventi realizzati dall'azienda Umbra Control ascoltiamo a tal proposito le interviste realizzate da Edoardo Orazzi Gli interventi sono avvenuti tramite una progettazione a monte di quello che c'era già delle linee guida ben definite noi qui abbiamo rifatto tutto quello che è la rete, trasmissione dati l'impianto di videosorveglianza e l'impianto antintrusione che sono integrati fra di loro per fare una gestione unica Un premio come è stato detto prima in conferenza stampa rispecchia un po' l'Oscar del cinema quindi un riconoscimento importante per voi? Beh diciamo nell'ambito dei beni culturali indetto proprio dalla fondazione Enzo Rubi sì, sta prendendo una dimensione a livello nazionale molto importante sono concorsi dove le aziende del nostro settore ambiscono a partecipare e sta dando uno standard di qualità Questo premio lo otterrete voi? Verrà donato al museo? Beh diciamo che in questo caso veramente per l'integrazione che c'è stata fra l'amministrazione comunale noi abbiamo deciso di donare il premio proprio al committente che è il comune di Pesaro poi noi viviamo di gloria questa volta quindi va bene così Siamo molto felici di questo premio siamo felici intanto per Umbra Control che è un leader nazionale per quello che riguarda l'impiantistica non solo impianti elettrici ma anche quello che sono le telecamere al circuito chiuso, tutti i sistemi di sicurezza anche dei musei e anche tutto quello che riguarda ovviamente il controllo dei dispositivi digitali e sappiamo quanti ce ne siano che è all'interno del Museo Nazionale Rossini uno dei premi più importanti forse il primo più importante che c'è in Italia per quello che riguarda appunto gli interventi impiantistici nei beni culturali e dal Museo Rossini passiamo al Conservatorio Rossini Palazzo Livieri ha infatti ricevuto l'ufficialità dell'assegnazione di un finanziamento di 5 milioni e mezzo di euro dal Ministero dell'Università e della Ricerca che ha comunicato oggi la graduatoria relativa a interventi strutturali per edifici di particolare valore storico-artistico che ospitano i conservatori si tratta di un fondo importante sia per la riqualificazione sia per il rafforzamento della candidatura di Pesaro a Capitale Italiana della Cultura 2024 e Capitale Europea della Cultura 2033 Dopo il già annunciato aumento del pane e dei prodotti da forno dal primo gennaio anche bar e caffetterie di Pesaro Urbino aumenteranno i loro prodotti venduti al bancone come caffè, latte e cacao Ad annunciare l'aumento del 25% sono gli stessi operatori che aderiscono alle associazioni Confesercenti, Confcommercio e CNA al termine di una riunione unitaria della categoria La decisione è stata motivata dal vertiginoso aumento dei costi delle materie prime e dell'energia che ha messo in crisi il settore dei bar costringendoli ad adeguare il listino dei prezzi È l'imprenditore che usa la tecnologia il personaggio 2021 del presepe secondo Coldiretti Confartigianato e Fondazione Simbola che questa mattina hanno consegnato statuine artistiche realizzate da artigiani pesaresi a Monsignor Piero Coccia Vescovo di Pesaro e a Monsignor Armando Trasarti Vescovo di Fano Non una scelta casuale, quella dell'imprenditore che ha affrontato le difficoltà della pandemia vuole essere una statuina simbolo di resistenza operosità e capacità di adattamento al futuro senza rinunciare alla tradizione Ed ora parliamo di Palcoscenico Mar che è un progetto replicato per il secondo anno dalla Fondazione Cassa di Risparmio che ha prodotto 12 documentari che porteranno alla riscoperta di gioielli architettonici della provincia attraverso esibizioni di artisti musicali e teatrali Dopo il successo della prima edizione la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro presenta la seconda edizione di Palcoscenico Marche Architetture, Ambiente ed Arti nella provincia di Pesaro Urbino Si tratta di una collana di documentari realizzata con Amat, la direzione artistica di Lucia Ferrati e la regia di Giovanni Giardina e Mattia Tonucci Incantevoli video girati in luoghi caratterizzati da particolare pregio artistico, architettonico o ambientale permettono di scoprire la bellezza di tesori nascosti Palazzi, rocche, chiese, dimore, teatri storici antichi borghi, monasteri, parchi e luoghi dell'archeologia industriale si trasformano per l'occasione in palcoscenici Dal 9 gennaio al 27 marzo i 12 documentari della seconda edizione di Palcoscenico Marche saranno pubblicati tutte le domeniche a mezzogiorno nel canale YouTube della Fondazione Si comincia il 9 gennaio raccontando l'arco di Fondarca di Cagli in compagnia del Sim Saxophone Quartet e poi ancora il Palazzo Ducale di Urbagna la Chiesa delle Bastarde di Sant'Angelo Invado l'ex l'adificio Carotti di Fermignano la Quadreria Cesarini di Fossombrone la Chiesa di Sant'Egidio a Sant'Angelo in Lizzola il Convento di Monte Fiorentino a Frontino il Teatro di Cagli l'Aula Verde di Borgo Pace il Museo dei Bronzi Dorati di Pergola la Domus del Mito di Sant'Angelo Invado e il Monastero di Fonte Avellana Natale è periodo di bontà e di altruismo e ne hanno davvero bisogno tantissimo alla Fondazione Onlus Noi Domani una realtà che sostiene in particolare le famiglie pesaresi che hanno figli con disabilità e che andiamo a conoscere meglio in questa intervista alla Vice Presidente Irene Tonucci La Fondazione è attiva sul territorio pesarese dal 2015 e siamo partiti con una sfida grossa vogliamo dare autonomia ai ragazzi con disabilità complessa del territorio pesarese dal 2015 portiamo avanti prove di volo e lo portiamo avanti grazie a voi grazie al sostegno di tante aziende di tante persone del territorio pesarese che credono nei nostri obiettivi e nella deistituzionalizzazione del futuro dei nostri ragazzi disabili quindi invece di prevedere un futuro negli istituti lavoriamo con disabilità adulta per consentire loro di andare ad abitare in una casa una casa loro tant'è che il simbolo di quest'anno è proprio una casina con dentro dei cioccolatini la casa come simbolo di autonomia possibile per tutti approfitto di questo momento e vi ringrazio per darmi questa possibilità di ringraziare veramente tutto il territorio pesarese e tutte le aziende, i privati che ci stanno sostenendo attraverso delle donazioni e con le quali noi cerchiamo di ringraziare coi nostri piccoli prodotti solidali parliamo di panettoni prodotti a chilometro quasi zero perché è un nostro sostenitore il panificio Fabri di Iesi cioccolatini e rovelli e delle penne con dei piccoli semi all'interno proprio simbolo di crescita il nostro brand se vogliamo è Aiutami a crescere quindi abbiamo cercato veramente di unire quello che è il nostro ideale di autonomia di crescita e di sviluppo dei ragazzi con dei prodotti solidali che potete trovare in diversi punti vendita del territorio pesarese e vi consiglio di seguire la nostra pagina Facebook per non dimenticarne nessuno perché veramente temo di poter dimenticare qualcuno ma soprattutto chiediamo di venirci a trovare in sede noi siamo in via Sirolo il nostro appello è proprio di adottare il nostro progetto si parla di adozione a distanza il nostro è un'adozione a vicinanza perché siamo su Pesaro siamo qui, siamo in via Sirolo potete venirci a trovare e sopra di noi c'è proprio l'appartamento in cui i ragazzi sperimentano queste soluzioni di vita autonoma sia con delle notti quindi il progetto prove di volo ma anche con altri progetti propedeutici a prove di volo come per esempio il progetto incontro che vede dei momenti sempre di vita autonoma magari però più proiettati verso il pomeriggio e la sera e il nostro obiettivo è quello di allargare il nostro bacino d'utenza sicuramente quindi dal dopo di noi quindi disabilità adulta al progetto propedeutico quindi un pochino prima della vita autonoma e perché no diciamo progetti dagli 0 ai 99 anni vogliamo crescere insieme a voi e concludiamo questa nostra edizione del telegiornale parlando di libri domani alle 20.10 su Rossini TV troverete uno speciale che abbiamo realizzato questo scorso fine settimana in occasione della presentazione del volume Vallefoglia Paesaggio con figure che si è tenuto appunto questo weekend aspettando l'approfondimento però intanto vi vogliamo dare un'anticipazione Vallefoglia Paesaggio con figure un libro che racconta la storia di questo comune di questa città che se a livello legale è un comune giovanissimo ovvero nato da 7 anni dalla fusione di altri comuni da quel 2014 è rappresentata però in questo libro tutta la sua storia passata attraverso narrazioni attraverso fotografie che vogliono raccontare il passato il presente ma soprattutto il futuro di un territorio che ad oggi è sempre più in continua espansione l'idea devo dire la verità è stata del sindaco che già quasi in tempi pre-covid mi chiese ma perché non provi a pensare un libro che racconti la storia di Vallefoglia attraverso le vite di sette personaggi illustri e io diciamo così ho raccolto la sfida ho provato a comporre mi sono già occupata in passato di questo territorio ho provato a comporre delle notizie già edite per creare quello che invece fosse un ritratto differente di Vallefoglia è come se avessimo preso il capitolo personaggi illustri di una guida turistica una guida al territorio diciamo così e avessimo capovolto la prospettiva cioè cercando di vedere questo territorio gli ex comuni di Sant'Angelo in Lizzola e col bordolo con tutti i relativi castelli borghi che compongono appunto Vallefoglia attraverso gli occhi di queste persone che qui sono nate o che qui hanno vissuto non tutti sono nati a Vallefoglia l'unico che è nato a Vallefoglia cioè Sant'Angelo in Lizzola è Giovanni Branca di questi sette personaggi architetto vissuto nella seconda metà del Cinquecento tra fine Cinquecento e primi Seicento e architetto della Santa Casa di Loreto che è ricordato per esempio per i suoi studi sulla macchina a vapore poi vabbè passando così in un'arpidissima carrellata perché sono sette sono tanti e hanno avuto delle vite veramente molto ricche e sempre per Sant'Angelo in Lizzola abbiamo Giulio Perticari sua moglie Costanza Monti Perticari poi abbiamo Terenzio Mamiani statista, uomo del risorgimento come sicuramente tutti ci ricordiamo poi invece per quello che riguarda col bordo abbiamo Giovanni Santi passato alla storia come il padre di Raffaello Sanzio ma che ha una sua personalità aveva anche una sua attività molto interessante che fortunatamente in tempi recenti è riscoperta la cui famiglia era originaria di col bordero ma poi si è trasferita in Urbino dopo un assedio del 1446 di col bordero e poi Francesco Paciotti e Girolamo Genga la sorpresa più grande è stata probabilmente Francesco Paciotti architetto militare ingegnere che ha viaggiato mezza Europa veramente del quale quest'anno ricorrono proprio 500 anni dalla nascita l'identità di una città futura una città industriale una città che è al centro e diciamo confina con Pesaro con Montalabate con Petriano con Montecalvo con Tavuglia ed è crocevia di quattro regioni una città industriale importante che attraverso le sue radici storiche attraverso diciamo le strategie future che abbiamo individuato col nuovo piano regolatore e vuol diventare anche un punto di riferimento importante al centro di queste quattro regioni per diciamo l'economia ma la storia l'ambiente il paesaggio il turismo e punta ovviamente come dice la nostra bellissima Costituzione alla piena occupazione e siamo arrivati alla fine di questa edizione del nostro telegiornale ma restate collegati su Rossini TV perché questa sera subito dopo questa prima edizione del telegiornale alle 20.10 troverete un interessante approfondimento in collaborazione con ConfCommercio che vi racconterà la sintesi di tutte le iniziative fatte nel 2021 e i progetti del 2022 e poi non perdetevi la penultima puntata di Master Fish il pesce il pesce va in onda al ristorante Lo Scudiero abbiamo realizzato questa puntata e chiaramente anche qui troverete due chef amatoriali che si propongono con i loro piatti a base di pesce quindi l'appuntamento è questa sera alle ore 21.20 e vi ricordiamo il consueto appuntamento con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 7.20 quindi ci ritroviamo anche domani e poi in replica alle 8.20 alle 12.30 alle 14 e alle 18 e chiaramente vi ricordo che Rossini TV resterà sempre vicino a voi in queste giornate di festa quindi state sempre collegati sul canale 633 per essere informati sulla programmazione e sulle notizie locali anche nei giorni di festa grazie mille a tutti voi e buona serata grazie a tutti